Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene così. Grazie a tutti. 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 Vai a fare in culo. Ok. 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 Ecco l'invito 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 Grazie a tutti. Ciao. Oh, GG. 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 si vede gioca comincia a studiare strillerà papà magari poi se incavolerà pedicherà e tutto avrai solo stare attenti ma gli devi dire dai non me sfinì studierò papà e domani papà sgobberò se vuoi domani sgobberò fammi dire ti per oggi papà a me di quante volte te lo devo dire devi mettere la testa a posto devo mettere la testa a posto e c'ha ragione domani me la tappo alla permanente ma cavolo ho fatto ma invece un figlio come te e che ne so forza ha sbagliato l'alimentazione ha uscito una piatti che non ha vincito ma fa come te pare e c'è se sei come me non te preoccupa alla vita è meglio da ieri del cu canta insieme a me li fossi non non c'è da pensare quelli già fatti a posta ve rompe fatti e ammatti non te fa fregare canta insieme a me guarda il mondo è blu che vale in vicino quel che poi verrà domani nessuno lo sa alla vita è meglio da ieri del cu sei una forza chiedi una forza un trappagamento lo sai ma che te prego bellu casarini vedi ti che te va non te da frega corteschi o senza? oh devo rompere 30 generatori vabbè ma lo faccio con questo coso non te da frega La lezione di oggi riguarderà la storia d'Italia Dunque, aprite il libro Pierino, ma che ti sei fatto alle mani? No, niente, se l'aiuto a papà in cucina mi sono scoppato Povero Pierino, mi dispiace, spero che guarirei presto Sì, grazie, non è niente Bene, ragazzi, allora vediamo un po' Dunque, 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 dunque Aprite il libro a pagina 50 Signorina? Sì? E io come faccio? Scusa Pierino, hai ragione, adesso ti aiuto io Ecco qua Sì, grazie Certo che la signorina è proprio buona, eh? Eh sì, è buona, è buona Sì, grazie Un capitone Sì, grazie 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 Allora, adesso Sì, grazie 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 Sì, grazie